... Mercoledì 10 febbraio, buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV, sul canale 17 c'è Occhio ai giornali, la rassegna stampa. Abbiamo anche questa mattina selezionato per voi le notizie, le pagine più importanti a nostro parere, a nostro giudizio dal resto del canino del Corriere Adriatico, le commenteremo insieme fino alle 7 e 29 circa, per poi lasciare lo spazio alla diretta dalla Santa Casa di Loreto dove abbiamo ogni mattina la Santa Messa. Allora prima andiamo a vedere il Santo del Giorno, oggi è Santa Scolastica, il sole sorgerà alle 7 e 17, e il tetramonterà alle 17 e 33. Adesso andiamo a vedere il tempo. Ci ha attesa naturalmente per quanto riguarda le condizioni meteo per questa ondata di maltempo in arrivo, ce n'è una già mercoledì come titola il sito di trebimeteo.com. Questa è l'immagine, l'Italia che viene raffigurata, rappresentata con la simbologia, con la neve, vedete, sulla catena alpina ma anche sugli appennini. Insomma, tra venerdì però e il fine settimana di San Valentino arriva il gelo russo, il famoso Burian dall'Italia, sull'Italia. Neve anche in pianura. Quali sono le regioni interessate? Lo potrete vedere sul sito trebimeteo.com oppure andare sul sito della Protezione Civile delle Marche, dove noi andiamo ogni mattina per darvi le previsioni del giorno e dei prossimi due. Allora, la previsione per oggi intanto avremo nella prima parte della giornata, deboli piogge sparse nelle zone alto colinare, montane ed isolate altrove. Poi domani, domani vedete il tempo comincia a cambiare con temperature in lieve diminuzione. Avremo delle precipitazioni, anche nevose, come vedete dalla grafica, nelle zone alto colinare, montane, isolate, sporadiche altrove, con limite delle nevicate oltre 500 metri. Ma è nella giornata di venerdì che inizia a cambiare il tempo. Vedete la simbologia, anche la neve sulla costa anconetana e pesarese. Avremo queste isolate precipitazioni a carattere di rovescio lungo la fascia costiera, più probabili nel settore settentrionale, con limite delle nevicate a quote basso-collinari. Ora, le temperature sono in diminuzione nei valori massimi. Nella giornata di sabato, vedete, nella tendenza qua sotto, nella giornata di sabato c'è questa discesa di un nucleo di aria fredda dalla Scandinavia, con precipitazioni nevose fino a quote pianeggianti. Domenica con deboli fenomeni in residui in mattinata e poi un miglioramento. Allora, adesso i giornali. Il Corriere Adriatico, la fotonotizia, è proprio sul crollo delle temperature previsto dai meteorologi. Il grande gelo di San Valentino, titolo del Corriere edizione di Pesero. Poi il titolo invece principale, over 80, tutti vaccinati in un mese. La promessa della Regione, dal 20 febbraio, 2800 dosi al giorno in 15 location. Il 12 marzo, la chiusura. Via le prenotazioni online tra 48 ore. Sarà replicata la maxiorganizzazione dello screening di massa. Ora, questa è una notizia che chiaramente farà piacere a tutti coloro che hanno più di 80 anni. C'è questa operazione, questa promessa della Regione che prevede la vaccinazione per tutte le persone che hanno più di 80 anni. In tutta la Regione Marche è un'operazione molto importante, su vasta scala. E dunque si tende poi a chiudere entro il 12 di marzo. Una maxiorganizzazione che partirà tra qualche giorno con la prenotazione online. E qui conciliare l'età di chi dovrà vaccinarsi con il fatto di prenotarsi, ovviamente implica che qualcuno dovrà dare una mano a questi nonnini ottantenni o ultraottantenni, che ovviamente con la tecnologia non hanno tutta questa familiarità. Ma immaginiamo che si troverà una soluzione. Poi, stare in classe fino a giugno. Questa è una proposta che trova spazio sul Corriere di questa mattina. Stare in classe fino a giugno, gli studenti dicono no, grazie. L'ipotesi avvalorata dalle poche indicazioni filtrate dalle trattative per il nuovo governo davvero non piacciono. Dunque arriva un coro di no. Un coro di no davvero compatto che vede studenti, docenti e dirigenti scolastiche tutti quanti sulle stesse posizioni. Edifici inadatti, cancellazione della didattica a distanza, movimento turistico azzoppato e grande stanchezza. Insomma, non c'è voglia di andare a scuola fino alla fine di giugno, fino alla fine di giugno, i primi di luglio. Non c'è nessuna intenzione. Poi da Villa Marina, invece da Pesaro, si tratta l'acquisto dell'area destinata allo sport. A Urbino, dottore in pensione, ci sono due frazioni che restano dunque senza medico. E poi Marche Nord e Asur, ci sono carenze di posti letto e di medici. Strage di anziani nella residenza protetta. Da gennaio 10, diecessi su 28 ospiti. Altri sei positivi. L'assessore Tinti ha fanno esterne il dispiacere del comune. Dunque l'epidemia da Covid si è accanita sugli ospiti della residenza protetta nella casa Don Paolo Tonucci, in via Bracci. Dieci anziani sono morti per le conseguenze del contagio. In un altro caso invece non si è trattato di virus. Altre cinque persone sono risultate positive. Sono ora assistite in altre strutture. E poi ancora cronaca con questa notizia sempre dalla prima, rapinatore seriale tradito dall'ultimo furto ed è stato dunque arrestato. Sul Carlino di Pesero la fotonotizia anche qui è per i vaccini agli over 80. Ora tocca a loro. Dal 12 al via le prenotazioni, dal 20 si passa alle iniezioni. Protesta degli artisti, raffiche di multe. La polizia ha identificato decine di persone senza mascherina alla manifestazione in piazza Lazzarini, sempre a Pesero. Poi sull'ospedale unico la Morani attacca mentre Baldelli replica. Ma il centrodestra rifiuta 55 milioni, chiede la Morani. E sulla nuova questura progetto e appalti vicini. La nuova questura a Pesero. Positivo al virus il Vescovo di Fano, mezza diocesi in quarantena, fedeli in apprensione. Poi la tempra invece di padre Marzio, il frate francescano a Pesero. Il frate è stato appena dimesso dall'ospedale. Il virus sfianca ma io, dice padre Marzio Calletti, io ci sono. E sotto invece il carnevale dei ragazzi c'è ma solo a pezzi. Maschere e cartapeste disseminate in città a Pesero. VL invece inizia l'avventura. Da domani Coppa Italia. Apriamo allora la nostra rassegna stampa nelle pagine interne con le due pagine che il Corriere Adriatico dedica questa mattina all'arrivo del maltempo. All'arrivo del Burian. Il titolo ci mancava. Burian, pronti al grande gelo. Le Marche sotto zero. Da venerdì le temperature si abbassano anche di 13 gradi. Forti raffiche di vento, mareggiate e dentro terra imbiancato. Questo è un servizio di Maria Teresa Bianciardi sul Corriere di Oggi. Guardate queste due immagini straordinarie. A sinistra la foto del 2012 della rotonda a mare di Senigallia e dall'altra parte invece una strada di montagna a destra. Guardate questa BMW come passa a senso unico ovviamente in mezzo a due colonne di neve. Ci sono due interviste che Maria Teresa Bianciardi questa mattina fa nel suo servizio. La prima a Stefano Leonesi, meteorologo del centro operativo agrometeo dell'Assam, che sta studiando in queste ore che impatto avrà la corrente siberiana nella nostra regione. Da venerdì gli influssi, dice l'esperto, gli influssi gelidi sull'Italia faranno crollare, come abbiamo già detto, le temperature. Al momento però non sappiamo se assisteremo a nevicate intense anche sulla costa, come avvenuto in anni precedenti. Mentre gelate e neve, sì, nell'entroterra, sicuramente lungo la catena dei Sibillini e nelle zone più alte delle Marche, ma bisognerà attendere l'arrivo del vento siberiano per capire se il maltempo si trascinerà anche lungo la fascia costiera adriatica. Le previsioni del momento però lo escluderebbero. Poi c'è l'altro parere invece dell'esperto Marco Lazzeri, fisico e meteorologo della protezione civile delle Marche, che dice che difficilmente nevicherà lungo la costa. Nel 2012 la struttura depressionaria durò per diversi giorni e questo portò alle abbondanti nevicate che riguardarono anche le zone pianeggianti. Stessa cosa nel 2018. Burian di quest'anno invece dovrebbe risparmiare il litorale, anche se lo sapremo con certezza nelle prossime ore. E a proposito del nevone del 2012, che Fanotv vi ha raccontato minuto per minuto come avviene in questi casi, niente a che vedere, il Burian di questi giorni, dei prossimi giorni, niente a che vedere con il nevone del 2012, quando per due settimane il maltempo ha imperversato sulla regione, passando dalla provincia di Macerata a Pesaro, imbiancando montagne e spiagge. L'altra pagina invece del Corriere, sempre sulla questione del burio e del maltempo, invece è dedicata ad un'intervista al professor Bisci dell'Unicam, che parla di abbondante neve sicuramente nelle zone interne, però anche Bisci qui più o meno è in linea con gli altri esperti. Dice no, qualche fiocco potrebbe esserci sulla costa, ma non credo che attaccherà al suolo sotto i 300 metri di altitudine. Questo intanto è il riquadro, come vedete, delle prossime ore. Domani, nei prossimi giorni, domani ci sarà pioggia, poi venerdì e sabato invece le nevicate. E anche qui vedremo, poi seguiremo anche noi con il telegiornale e cercheremo di saperne un po' di più, perché poi il tempo non lo dice di nessuno. Sì, la meteo è una scienza, ma inesatta, e quindi bisogna vedere che cosa succederà con le carte meteorologiche. Una volta c'era l'ufficio presagi, quando volavano gli aerei, raccoglievano i dati in aria e poi li comunicavano attraverso i mezzi di comunicazione dell'ora in tutto il mondo per stabilire poi tutte le correnti e quant'altro. Ora l'ufficio presagi non c'è più, abbiamo una marea di app, una marea di cose che dicono tutto il contrario di tutto, quindi destreggiarsi un pochettino. Una volta c'era Bernacca, c'era Rai 1, si ascoltava lui e quello era il Vangelo, e qui c'era poco da discutere. Adesso invece siamo tutti meteorologici. Allora, adesso invece cambiamo argomento in attesa delle previsioni. Dunque, la sfida della Regione, gli over 80 vaccinati, tutto fatto in un mese. Chiaramente c'è un punto interrogativo in questo titolo, perché anche qui è un'operazione in grande stile che metterà a dura prova un po' tutto il sistema, ma è una scommessa, chiaramente, che deve essere vinta, perché abbiamo visto come gli over 80 sono le persone, in questa situazione, in questa pandemia, tra le persone più fragili. Dunque, al via questa operazione il 20 febbraio, si chiude il 12 marzo in 15 sedi, 2800 dosi quotidiane. Da venerdì, prenotazioni online, poi le sei categorie prioritarie della fase 2. Scendono i contagi, titolo del Corriere, pagina 5, ma i ricoveri crescono. Ancona, ad alto rischio, è la provincia con il numero più consistente di positivi di pazienti in rianimazione. Ieri 12 decessi registrati, tra cui un marchigiano di 100 anni che è morto in casa. Sulla variante inglese e i bambini il binomio non è scontato. Ci sono ancora molti studi in corso, ma al momento non sembra che la variante inglese abbia come target specifico, come obiettivo specifico i bambini, ovvero non l'infetta in maniera particolare rispetto agli altri. Mentre per quanto riguarda le altre varianti, i dati non sono ancora sufficienti a formulare delle ipotesi. Anche il resto del calino, ovviamente, tornando sulla questione dei vaccini, titola, finalmente tocca agli over 80. Si parte il 20, ecco le tre sedi dove si farà. A Pesaro sarà la Vitri Frigo, a Fano il Codma, a Rosciano, mentre a Urbino il Palacarneroli. Ci si prenota online alle poste, oppure telefonando al numero verde 800 00 99 66. Dunque, scrive Simona Spagnoli questa mattina, al via nelle Marche, a partire da sabato 20 febbraio, questo piano di vaccinazione. In sicurezza circa 20.000 nonnini della nostra provincia che risiedono a casa. Rappresentano infatti il 70% della platea dei nostri grandi anziani, 95 dei quali hanno superato il secolo di vita. Lo hanno annunciato ieri il Presidente della Regione Acquaroli, insieme all'Assessore Salta Martini, durante la conferenza stampa, in cui sono state definite date, percorsi, modalità di partecipazione. E dicono, siamo in una fase dunque cruciale. Contiamo di concludere in 19 giorni, al ritmo di quasi 2.900 iniezioni ogni 24 ore. In sostanza Bertolaso pare quindi abbia lanciato una sorta di sfida. Bertolaso aveva annunciato un vaccino ogni 7 minuti, un vaccinato ogni 7 minuti, mi pare, se non ricordo male. Ora, andiamo a pagina 12 invece del resto del Carlino. Perché? A pagina 12 si parla dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E qui ci sarebbe da dire molto, anche ovviamente in senso critico, perché l'OMS in tutta questa faccenda ha dimostrato di non essere assolutamente all'altezza di nulla, perché ha toppato, come si dice, in gergo adolescenziale, su tanti fronti. Poi non si sa se volutamente o non volutamente. Comunque, la storia ce lo insegnerà e probabilmente i figli lo leggeranno nei prossimi decenni. Intanto, che cosa succede? Che cosa scrive il giornale Oggi? Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, scagiona il laboratorio cinese, ma non spiega come è nato il virus. L'incidente improbabile, cioè per questi operatori dell'OMS, il virus non sarebbe nato in questo laboratorio cinese, come invece sostengono altri, però non dice come è nato questo virus. L'ipotesi dunque che questa SARS-CoV-2 sia sfuggito di mano dal laboratorio cinese che studia i patogeni è estremamente improbabile. Hanno detto questi specialisti che hanno guidato su questa delegazione internazionale entrata a Wuhan il 14 gennaio scorso, i dati raccolti finora fanno propendere per una origine animale e quindi ha chiarito l'esperto, dice i sospetti si concentrano su questo pangolino, sul pipistrello che sarebbero i serbatoi naturali di questa peste mondiale, ma la ricerca dell'ospite intermedio, il ponte attraverso il quale sarebbe transitato l'agente infettivo, è una questione ancora aperta. Comunque c'è questa notizia, pagina 12 del resto del carnino, se volete approfondire. Tornando invece sulle pagine locali, a pagina 20 del Corriere Adriatico, si parla degli ospiti della Don Tonucci, della casa Don Tonucci, che sono morti. Da gennaio sono stati registrati 10 decessi, altri 6 sono positivi. Nella casa protetta comunale devastante focolaio, l'assessore Tinti dice non sappiamo la causa e ovviamente proviamo grande dispiacere. Contagiati anche 6 operatori, ora nella struttura sono rimasti solo 12 ospiti su 28. Non c'è alcuna emergenza nei cimiteri fanesi, Cucchiarini ribadisce invece la disponibilità delle varie sepolture in replica alla Lega. Non c'è alcuna emergenza loculi né al cimitero dell'Ulivo né negli altri cimiteri presenti nel territorio comunale di Fano. Lo ha detto Sara Cucchiarini, rispondendo ai timori della Lega, che in una interpellanza aveva ipotizzato, riportando alcune segnalazioni, l'esistenza di solo 10 loculi disponibili sulla collina di Palombara e poche unità nei cimiteri rurali. Ma la Cucchiarini dice non esiste alcuna carenza. Sulla pagina di Fano invece del resto del Carlino, nuovi lavori alla Rocca, spunta una grotta segreta, intervento da 300 mila euro per il riscaldamento, il tetto e il consolidamento della parete sul lato mare, ma non sono mancate le sorprese. Anna Marchetti scrive questa mattina di questi nuovi lavori alla Rocca Malatestiana per 300 mila euro che servono per l'impianto di riscaldamento nel salone del primo piano, la sistemazione del tetto, il consolidamento della parete sul lato mare e proprio su questa parete sono venuti allo scoperto i merli medievali, ma successivamente tamponati, e così rimarranno anche per motivi di stabilità della struttura. Questi merli medievali, quelli attualmente visibili, sono delle ricostruzioni dell'inizio del secolo scorso che appunto verranno tamponati così per motivi di stabilità della struttura. Resteranno chiuse le finestre sottostanti, sembra che il salone posto al primo piano della struttura fosse in epoca malatestiana una stalla a cui i cavalli accedevano alla rampa dove ancora c'è la scalinata di ingresso al locale. Insomma, quando si va a scavare, a scoprire nella città, in città come Fano, che ha tanta storia alle spalle, le sorprese non mancano mai. Tornando a parlare di Covid, a pagina 15 invece del resto del Carlino, la notizia che anche il Vescovo della Diocesi di Fano ha contratto il Covid. Tra esatti al Covid, titolo mezza diocesi in quarantena, il Vescovo è risultato positivo dopo che si era ammalato, il segretario Don Luca ha sintomi lievi, tamponi a suore e religiosi. Al momento la terapia che gli viene somministrata consiste in semplici anti-infiammatori. Una malattia che ha mostrato, scrive Tiziana Petrelli sul giornale questa mattina, ha mostrato i primi sintomi ieri pomeriggio con l'innalzamento della temperatura corporea di Monsignor Trasarti, ma nessun altro segnale di quelli classici riferibili al Covid. Tant'è che il Vescovo viene curato in casa, sebbene anche le suore che generalmente lo accudiscono, sono quattro, siano state isolate, nonostante siano risultate negative al tampone SARS. Tutti in questi giorni, ovviamente, speravano che il Vescovo l'avesse scampato, invece purtroppo nei giorni scorsi Trasarti, che si era già sottoposto ad altri tramponi, tutti negativi, ha preso il virus. E questo perché è risultato positivo anche il suo segretario particolare, uomo di fiducia, praticamente la sua ombra, come scrive il Carlino, appunto anche Don Luca Santini. Andiamo adesso sulla pagina 16 invece del resto del Carlino. Sul Carnevale, un periodo in questo, come l'anno scorso, in cui già cominciavamo, ricordo, la seconda diretta della nostra, di una delle tre dirette, insomma, del Carnevale, il pomeriggio, già cominciavamo, si cominciava a parlare di questo virus, non sapevamo molto ancora, qualche persona, un paio di persone, su migliaia e migliaia di presenti, durante il corso mascherato, avevano la mascherina, e ci sembrava di aver visto chissà che cosa. Lo avevamo detto, ne avevamo parlato anche durante la diretta, e c'erano i primi segnali di questo virus, però fondamentalmente eravamo tranquilli, pareva, quella volta, insomma, lo scorso febbraio di un anno fa, sembrava che la questione non ci toccasse da vicino. Poi in realtà, piano piano, le cose abbiamo visto, sono andate in maniera diversa, poi anche la Gianmarioli, ha annunciato di essere positiva, anche noi qui siamo andati tutti in fibrillazione, perché era stata nostra ospite, durante l'ultima puntata del processo al Carnevale, insomma, ne abbiamo vissute, ne abbiamo anche noi da raccontare. Ma comunque, parlando di quello che è il Carnevale di quest'anno, un Carnevale chiaramente molto virtuale, perché, come sapete, il Carnevale non c'è, è saltato, forse si farà quest'estate, probabilmente si farà quest'estate, non sappiamo ancora i particolari, ma c'è intanto il manifesto, il manifesto griffato Simoni, colori sgargianti per infondere gioia e speranza, ma ho anche pensato a Peluche e a un carro del Voulon che sconfigge il coronavirus, dice appunto Carlo Simoni, che lo vedete in questa fotografia, insieme al sindaco di Fano Massimo Serri, la presidente dell'ente carnevalisca, Maria Floro Gianmarioli, e l'assessore al turismo e agli eventi, Etienne Lucarelli. Bene, sotto invece Casa di Riposo Maroncelli, oggi si parte con i vaccini, poi l'altra pagina di Fano del Corriere, mondo sotterraneo a Fiora con il restauro della Rocca, anche qui incerta la funzione degli ambienti medievali, il programma di valorizzazione di tutto quello che è stato scoperto. Poi attenzione l'iniziativa che riguarda il municipio il giorno del ricordo, inaugurata a Stelle in municipio contro l'orrore delle foibe, alle 18 la conferenza per il giorno del ricordo. andiamo adesso invece sulla pagina 22, anche qui si parla del manifesto del carnevale, Simoni, attore grafico del carnevale, il via con le chiavi della città a Dante, il famoso attore fanese, ha firmato il colorato manifesto 2021, domani si apre la settimana grassa. Lo ricordiamo ancora una volta, la settimana grassa è una settimana di eventi che trasmetteremo in esclusiva sul canale 17 di Fano TV, qui sulla televisione del carnevale e la televisione dei fanesi. E allora per chi vuol vivere in qualche modo l'atmosfera del carnevale dovete semplicemente stare a casa e sintonizzarvi sul canale 17. Poi sulle potature radicali aumenta il dissenso verso Aset, anche l'ambientalista Tosi ritiene ingiustificato l'intervento sugli alberi e invece a pagina 5 del Carlino si parla del raduno musicale dei giorni scorsi davanti al teatro Rossini a Pesero. Adesso sono in arrivo le multe, le multe perché la Digos, la polizia, ha filmato e fotografato questa mucchiata, così la definisce il giornale, che si è fatta immortalare davanti al teatro identificando i protagonisti. E poi qui di fianco di spalle invece c'è la buona notizia che fa davvero piacere, ovvero padre Marzio Calletti, il frate dei Cappuccini, tempra da lottatore, il virus ti stende, racconta lui, ma sono tra voi. Per me la strada, dice, è lunga, quando ci rivedremo non lo so, dipende dai medici. Dei sei frati positivi, dei sei frati presenti lì nel convento a Pesero, cinque sono quelli risultati positivi, ma il parroco, scrive, padre Marzio non poteva restare l'ultimo, ha voluto anche l'ospedale. Infatti padre Marzio è stato in ospedale, dice, i miei polmoni sono stati interessati dalla malattia al 75%, e fa fatica a parlare. Padre Marzio, lui che dice, tra l'altro una cosa, perché per chi conosce padre Marzio sa benissimo che scherza sempre, ha le battute sempre pronte, dice, lui che canta anche con una bella voce, una voce straordinaria, dice, purtroppo la cosa che mi costa di più è il dovermi trattenere il più possibile dal parlare, perché la polmonite toglie il respiro. Nella vita ho sempre cantato De Gallo, ora si e no da gallina. E quindi forse non tutti hanno capito il perché non gradivo telefonate, ora spero sia più chiaro. L'articolo di Luigi Diotallevi sul Carlino di oggi. Valmetauro, Casellino, opera strategica, ma la politica rimane divisa, bocciata la mozione della Lega a Fano, nonostante il sindaco Seri, abbia lo stesso obiettivo. Mentre da Urbino, i sindaci al lavoro per la strada Pesaro-Urbino, ieri confronto organizzato dal presidente della provincia Paolini, e per Matteo Ricci oggi ci sono molte opportunità per completarla questa strada. E ancora, Covid ad Apecchio, attività didattiche in presenza tutte sospese, c'è un'ordinanza del sindaco del paese di Apecchio, poi da Urbino, Corriere, dottor Rossi in pensione, è polemica, due frazioni perdono praticamente, l'unico medico, faceva ambulatorio a Schieti e a Pieve di Cagna, voleva lavorare ancora per spirito di servizio ai tempi di Covid. Brugnetti dei moderati dice, quei cittadini senza servizio assistenziale, essenziale, ma da Gambini, solo silenzio. E poi ci sono lavori alla rete idrica, quindi mancherà l'acqua a Urbino, ci sono in questo articolo le vie interessate, interruzioni e cali di pressione per sette ore e mezzo, in quindici punti, della località Mazzaferro. Andiamo sulla pagina della Valle del Cesano, ospedale, vogliamo garanzie, siamo a Pergola, non venga trasformato in RSA, il Movimento 5 Stelle incalza la giunta regionale, dopo le segnalazioni sulla criticità dei lavori. Poi da Mondolfo, non indossa la mascherina al terco al bar, quindi discussione al bar, litigata all'interno di questo bar, ex Presidente Avis riprende un avventore e si sfoga sui social contro i negazionisti. Vallefoglia invece, più controlli nel fine settimana fino alle 24, piazze blindate grazie ai carabinieri, Ucchielli in cassa all'intensificazione della vigilanza, predisposto dal prefetto La Polla. Poi a Senigallia, riecco gli assi, riaperture il 3 di aprile, anche a cena il pranzo non basta. Dalla prossima settimana, la squadra dello chef stellato all'opera, dice lui, mi aspetto un'estate come quella scorsa. Poi l'emergenza, lo studente positivo intera classe a casa, una seconda in quarantena alla media Marchetti di Senigallia. Chiudiamo con la pagina di Senigallia del Carlino, hotel chiusi, non c'è nessuna prenotazione, il mondo del turismo è allo stremo. Marco Manfredi di Federalberghi dice, anche per Pasqua è tutto fermo, l'unica speranza è l'estate. E la pallavolo, l'ultima pagina della nostra rassegna, con la Lube, che vince 3-1 contro i francesi del Tours, 3-1, e dunque la Lube è già ai quarti di Champions. Grazie per essere stati con noi, occhio alla notizia questa sera alle 20.30, occhio ai giornali, domani mattina invece, puntuali alle 7. Arrivederci. Grazie.